È una partita giocata a ritmi abbastanza ridotti, con idee ancora un po' confuse, però giustificate dal fatto che questa è la settimana di lavoro più intenso, quindi solitamente in questo periodo con questo tipo di preparazione è normale andare incontro a bruttissime figure, quindi siamo andati meglio rispetto alle previsioni. Se devo giudicare questa partita come se fosse una gara di campionato direi niente, ma ad oggi dico che mi è piaciuto il saper soffrire, nonostante io sappia che è come se avessero giocato con un frigorifero sulle spalle. Mancano le gambe, manca ancora il gioco perché è normale, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno, anche chi c'è adesso sarebbe in grado in altre condizioni di fare gol, ma è chiaro che qualcuno arriverà.